Ciao e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi spiego le regole di un gioco che ormai ha qualche annetto, ma che secondo me ha un fascino ancora indiscutibile. Ci tratta di Viticulture Essential Edition. Il gioco è ambientato in una Toscana del passato e ognuno dovrà cercare di far crescere la propria azienda vinicola. Andiamo subito a vedere il setup. Si mette innanzitutto il tabellone al centro del tavolo e ogni giocatore ottiene la propria plancia. Dopo averli mescolati poi si posizionano il mazzo delle viti, dei visitatori giallo e blu e degli ordini di vino negli appositi spazi sulla plancia. Ogni giocatore poi prende tre carte campo, ognuna di valore differente, e le posiziona sulla propria plancia sul lato disponibile. Ogni giocatore poi riceve i pezzi del colore scelto e li posiziona in questo modo. Le otto strutture e i sei lavoratori davanti a sé. Il gallo sul tracciato del risveglio, il cilindro segnapunti sullo start del tracciato dei punti e la bottiglia sul simbolo delle lire sul tracciato pagamenti residui. Ogni giocatore poi ottiene una carta mamma e una carta papa. Queste non sono altro che delle carte che danno un setup iniziale differente a tutti i giocatori. Tutte le carte mamma contengono un numero di lavoratori disponibili fin da subito, che il giocatore piazzerà nella sezione lavoratori disponibili sulla propria plancia, e un numero di carte che comporrà la mano iniziale del giocatore. Ogni carta papa fornisce un lavoratore grande e delle monete. Il giocatore quindi prende il lavoratore grande e lo mette fra i lavoratori a disposizione e le lire ottenute vicino alla propria plancia. Puoi sceglie se costruire immediatamente la struttura indicata o ottenere le monete. Ecco fatto, le carte mamma e le carte papa ora non servono più e possono essere riposte nella scatola. Vengono poi poste a disposizione di tutti i giocatori le monete da 1, 2 e 5, il lavoratore grigio e i gettoni uva e vino. Infine si estrae il primo giocatore a sorte che ottiene il segnalino grappolo d'uva e si è pronti per cominciare. I giocatori devono utilizzare i propri lavoratori e le carte a disposizione per poter governare la loro azienda vinicola. Durante le varie stagioni dell'anno i giocatori piazzeranno i propri lavoratori in modo da svolgere determinate azioni con lo scopo ultimo ovviamente di produrre vino per poi venderlo e ottenere dei punti. Sulla propria plancia i giocatori potranno piantare le viti, raccogliere l'uva e trasformarla poi in vino ma anche costruire delle strutture che le agevolerà in questo compito. Quando un giocatore raggiunge i 20 punti si termina l'anno in corso e chi ha ottenuto più punti al termine di quell'anno è il vincitore. Una partita a viticulture si divide in anni ed ogni anno a sua volta si divide in quattro stagioni. Si parte dalla primavera. Il giocatore con il grappolo d'uva può per primo decidere dove piazzare il proprio gallo sul tracciato del risveglio. Dopo aver deciso dove metterlo il giocatore ottiene anche l'eventuale bonus stampato a destra della tabella, in questo caso una carta ordine divino. La scelta viene poi fatta anche dagli altri giocatori in senso orario e quando tutti hanno finito viene quindi determinato l'ordine di turno per quest'anno. Non si guarderà perciò più il segnalino grappolo d'uva ma l'ordine con cui sono stati piazzati i galli sul tracciato. Ciò significa quindi che il primo giocatore di ogni turno sarà il giallo seguito dal blu e infine il bianco. A questo punto si passa all'estate. In questa fase i giocatori nell'ordine di turno dovranno prendere uno dei propri lavoratori e piazzarlo su uno degli spazi liberi sulla sezione dell'estate oppure passare. Come indicato anche dalla tabella riassuntiva qui di fianco, quando si gioca in modalità solitario o in due, solo il primo spazio a sinistra di ogni sezione è disponibile. Quando si gioca in tre o quattro invece si può mettere i propri lavoratori anche sullo spazio centrale, invece l'ultimo spazio a destra si può utilizzare solo quando si gioca anche in 5 o 6. Quando un lavoratore viene piazzato lo spazio che occupa non può più essere utilizzato da altri lavoratori piccoli. Inoltre per occupare lo spazio bisogna obbligatoriamente eseguire l'azione indicata. Ciò significa che se voglio occupare questo spazio devo obbligatoriamente piantare una vite. L'unico modo per poter utilizzare nuovamente lo spazio occupato da un lavoratore è utilizzare un lavoratore grande. Il lavoratore grande può essere utilizzato comunque anche come lavoratore normale. Tutti gli spazi centrali sulla plancia forniscono anche un bonus. Il giocatore che vi piazza la un lavoratore può decidere di applicare il bonus relativo. Prima di andare a vedere il significato delle variazioni estive, vediamo quest'azione molto semplice ovvero guadagna 1. Questa è l'unica azione che non è limitata nel numero di lavoratori che può contenere e ogni volta che viene scelta fa guadagnare una lira al giocatore che vi piazza il proprio lavoratore. Se un giocatore piazza il proprio lavoratore sull'azione offrire un giro il giocatore guadagnerà semplicemente 2 lire. Chi piazza il proprio lavoratore sulla sezione centrale guadagnerà una lira ulteriore. I giocatori che piazzano il proprio lavoratore nella sezione pescare carte vite semplicemente pescheranno una carta vite dal mazzo verde. Mettere il proprio lavoratore nella sezione centrale farà pescare una carta vite ulteriore. Piazzare il proprio lavoratore sulla sezione giocare visitatore giallo permetterà al giocatore appunto di giocare una delle carte visitatore giallo che ha in mano. I visitatori sono dei potenti alleati che aiuteranno i giocatori a migliorare la propria azienda agricola. Piazzare il lavoratore nella sezione centrale permette al giocatore di giocare un'ulteriore carta visitatore giallo. Se un giocatore piazza il proprio lavoratore nella sezione piantare viti il giocatore prenderà una delle carte viti che possiede e la pianterà in uno dei campi. Ogni carta vite ha un valore in basso e quando si pianta bisogna tenere presente che il valore totale delle viti presenti su un campo non può mai eccedere quanto indicato sulla carta stessa. Se quindi noi ad esempio abbiamo già queste viti che hanno un valore totale di 6 non potremmo piantare questa carta qui. Alcune carte vite hanno stampato in alto a sinistra dei prerequisiti per poter essere piantate. Questa carta indica che per essere piantata il giocatore deve possedere l'irrigazione. Per poter piantare questa il giocatore deve possedere il traliccio e per piantare ad esempio il cabernet bisogna avere entrambe le strutture. Se un giocatore piazza il proprio lavoratore nella sezione centrale può semplicemente piantare una vita in più. Se il giocatore piazza il proprio lavoratore in questa sezione può vendere dell'uva oppure vendere o ricomprare uno dei propri campi. Per poter essere venduto il campo deve essere libero come in questo caso e fornisce al giocatore i soldi indicati. Il campo poi va girato sotto sopra e finché non viene ricomprato per il valore indicato in alto a sinistra non ci si può piantare alcuna vite. Per quanto invece riguarda il vendere uva il giocatore può scegliere uno dei propri segnalini uva presenti nel pigiatoio per poter guadagnare quanto indicato. Se il giocatore quindi decide di vendere questo segnalino uva ottiene due monete. Posizionare il lavoratore sullo spazio centrale fa anche guadagnare un punto a quel giocatore. Se un giocatore posiziona il proprio lavoratore sulla sezione costruisci una struttura il giocatore può quindi costruire una struttura pagandone il relativo costo. Vediamo ora nel dettaglio le varie strutture. L'irrigazione e il traliccio costano rispettivamente tre monete e due e servono esclusivamente per piantare delle viti con loro come requisito. Il gioco, che costa due monete, permette al giocatore di sbloccare questo spazio azione. Da ora in poi, in estate o in autunno, il giocatore può prendere uno dei propri lavoratori e piazzarlo qui. In questo modo può decidere di fare una di queste due azioni o sradica una delle proprie viti, ovvero la riprende in mano, liberando quindi lo spazio per nuove viti, oppure può vendemmiare un campo nelle modalità che vedremo più avanti. Il mulino a vento, che costa cinque monete, permette al giocatore di guadagnare un punto quando pianta una vita nei propri campi. Questo punto può essere ottenuto però soltanto una volta l'anno. Il cottage, che costa 4, permette al giocatore di ottenere una carta visitatore blu o gialla in più nella fase autunno, che vedremo fra poco. La sala degustazione, che costa 6, permette al giocatore di ottenere un punto quando sceglie l'azione estiva offrire un giro, che abbiamo visto poco fa, e possiede in cantina almeno un segnalino vino. Il segnalino vino non viene consumato nel procedimento, ma a questo punto si può ottenere soltanto una volta l'anno. Infine la cantina media, che costa 4 e quella grande, che costa 6, sblocca la possibilità al giocatore di utilizzare i vini presenti nella sezione apposita. È da tenere presente che va prima costruita eventualmente la cantina media e poi quella grande. Posizionare il lavoratore sullo spazio centrale, permette al giocatore di costruire la struttura con uno sconto di una moneta. Quando tocca un giocatore, ma quello non vuole piazzare il proprio lavoratore sulla plancia, oppure non può farlo perché non ha più lavoratori disponibili, allora è costretto a passare il turno. Prende il proprio segnalino gallo e lo fa slittare a destra, e per questa fase non potrà più giocare. Quando tutti i giocatori hanno passato, allora si va alla fase successiva, ovvero l'autunno. In questa fase i giocatori, sempre in ordine di turno, sceglieranno se pescare una carta visitatore giallo o una carta visitatore blu. Da notare che i giocatori che possiedono il cottage pescano una carta in più. Una volta fatto ciò, si passa all'inverno, con le stesse modalità di piazzamento che abbiamo visto durante l'estate. Un giocatore che piazza il proprio lavoratore in questa sezione, paga 4 lire per addestrare un nuovo lavoratore. Il lavoratore viene piazzato vicino a questa sezione, in modo che sia disponibile dall'anno successivo. Se un giocatore sceglie lo spazio centrale, avrà lo sconto di una moneta sull'addestramento. Un giocatore che piazza il lavoratore in questo spazio azione, pesca una carta ordine divino. Se viene utilizzato lo spazio centrale, le carte pescate sono due. Se un giocatore piazza il proprio lavoratore su questo spazio, può giocare una carta visitatore blu dalla mano. Anche questi visitatori, come quelli gialli, possiedono degli effetti molto particolari e molto utili, che aiuteranno il giocatore durante la partita. Se un giocatore utilizza lo spazio azione centrale, potrà giocare una carta visitatore blu ulteriore. Se un giocatore piazza il proprio lavoratore su questa sezione, sceglie uno dei propri campi ed effettua una vendemmia. Il giocatore così otterrà del vino. Per conoscere il valore, sommerà i valori dello stesso tipo presenti sulla carta vino che sta vendemmiando. In questo caso quindi otterrà un vino rosso da 3 e un vino bianco da 1. Nel caso in cui avesse già i pigiattoi occupati su quel valore, allora dovrà produrre del vino di un valore inferiore. In questo caso perciò 2 e 0. Da notare che ogni campo può essere vendemmiato soltanto una volta all'anno. Per cui se un giocatore avrà utilizzato presentemente o utilizzerà successivamente il gioco, dovrà tenerne presente. Lo spazio centrale permette al giocatore di vendemmiare un campo in più, tenendo sempre presente che ogni campo può essere vendemmiato una volta all'anno. Se un giocatore piazza il proprio lavoratore in questa sezione, può fare fino a due segnalini vino. La trasformazione del vino può essere fatta in questo modo. Si può passare un segnalino uva de un colore e farlo diventare un vino dello stesso valore e sempre dello stesso colore. Si può creare un vino rosato mescolando due uve di colore diverso e sommandone il valore. Abbiamo 3 più 1 ed ecco quindi un rosato di valore 4. Infine possiamo creare un vino frizzante utilizzando due segnalini uva rossa e uno di uva bianca. Anche in questo caso viene sommato il valore dell'uva per dare poi il vino. Abbiamo 10 punti e quindi eccolo sul 9. Posizionare il proprio lavoratore sullo spazio centrale permette al giocatore di fare un segnalino vino in più. In ultima battuta posizionare qui uno dei propri lavoratori permette al giocatore di completare una delle carte ordine di vino che ha in mano. Il giocatore mostra la propria carta a tutti e poi pagherà quanto indicato in alto a sinistra in modo da completare l'ordine. I vini devono essere del tipo indicato e di un valore pari o superiore a quanto richiesto. Il giocatore quindi, scartando questi due segnalini vino, completa l'ordine. Ottiene immediatamente quindi i punti indicati e il pagamento residuo presente qui sotto. Il giocatore quindi prenderà la propria bottiglia e la sposterà di quanto indicato sul tracciato pagamenti residui. La carta ordine di vino viene poi scartata. Anche quando durante la fase invernale tutti i giocatori hanno passato, si passa alla fine dell'anno. Come riassunto sulla tabella qui a destra, la prima cosa da fare è invecchiare tutta l'uva e tutto il vino. Ogni giocatore quindi sulla propria plancia prende tutti i segnalini uva e tutti i segnalini vino e li fa avanzare di uno spazio. A questo punto tutti i giocatori guadagnano monete in base a dove sono arrivati sul tracciato pagamenti residui e ogni giocatore scarta carta dalla mano fino ad averne un massimo di 7. Tutti i lavoratori ritornano a disposizione mettendoli sullo spazio apposito sulla plancia. Infine il giocatore che ha il segnalino grappolo lo passa all'avversario della propria sinistra. A questo punto si ricomincia il nuovo anno dalla primavera. Quando un giocatore durante un anno riesce a raggiungere o superare lo spazio 20 sul tracciato dei punti, la partita prosegue normalmente fino alla fine dell'anno. A quel punto il giocatore più avanti sul tracciato dei punti verrà dichiarato vincitore. In caso di parità di punti vengono scontati i soldi che si hanno al termine della partita. In caso di ulteriore parità vengono sommati i segnalini vino nelle cantine di tutti i giocatori in pareggio e chi ha il valore più alto è il vincitore. E in caso di ulteriore parità si fa lo stesso procedimento con i segnalini uva. Se anche questo non serve a spezzare il pareggio, la vittoria è condivisa. A Vidiculture ormai ci ho giocato un po', però ho sempre fatto meno partite di quanto avrei voluto. Esiste anche una modalità in solitario, c'è un'espansione ovvero Tuscany che secondo me lo migliora in tutti gli aspetti. Soprattutto la plancia viene aumentata di opzioni disponibili e quindi di strategie percorribili, ma per questo video ho preferito soltanto spiegare le regole del gioco base. Ultimamente sono riuscito anche a fare una partita contro mio figlio e il gioco è piaciuto pure a lui. So che molti si lamentano del fatto che le carte visitatore sono un po' troppo sbilanciate, ce ne sono alcune di più utili e altre di meno utili, ma a me il gioco piace anche così. Forse sarà il fatto che io cerco sempre di pescare quante più carte possibili quando gioco a Vidiculture. Ora io vi ringrazio per avermi visto fino a qui. Come al solito se avete dubbi, domande, commenti scrivetemi e vedrò di rispondere prima possibile. Vi saluto e vi auguro buon gioco. Ciao! Si tratta di Vidiculture Essential. Invece l'ultimo spazio a destra si può utilizzare solo quando si gioca anche in 5 o 6. Boom! Era tanto difficile con... Essential Edition!